Tasi, il sindaco Moreno Polo in studio per spiegare la scelta delle aliquote da parte della maggioranza. Giornata del malato organizzata all'Orte dall'Unitalsi, una festa di solidarietà. La cascina Orte Calcio a 5 è pronta per il secondo anno di Serie A2, presentata la squadra. Bentrovati ad un nuovo appuntamento con il TG Magazine. Attenzione ai tentativi di truffe in nome del fisco. Si spacciano per funzionari del fisco incaricati di riscuotere a domicilio somme dovute all'Agenzia delle Entrate. È questa la truffa di cui è stato vittima nei giorni scorsi un anziano contribuente di Latina. L'Agenzia ricorda che i propri funzionari possono entrare nelle abitazioni esclusivamente previ a autorizzazione del magistrato ed esibendo l'incarico di accesso rilasciato alla struttura di appartenenza. Invita inoltre le potenziali vittime a denunciare ogni tentativo di raggiro, rivolgendosi quanto prima a qualsiasi ufficio delle Entrate e alle forze di Polizia. Il Consiglio Comunale della scorsa settimana ha stabilito le quote della Tasi, la nuova tassa dei servizi indivisibili. Con Gianni Di Felice c'è il Sindaco di Orte, Moreno Polo, pronto a spiegare le scelte della maggioranza. Ed eccoci qui con il nostro ospite. Il Sindaco Moreno Polo questa settimana è con noi. Come già annunciato poi nel Tg Magazine di sette giorni fa, apriremo il nostro salotto per questa stagione autunnale invernale che arriva per avere modo poi di ospitare ovviamente anche tutte le altre forze politiche che sono presenti in Consiglio Comunale. Quindi nelle prossime settimane avremo sia Area Nuova che Orte Città Nuova. Ma iniziamo ovviamente dal Sindaco perché c'è stato un Consiglio Comunale molto importante che ha definito le aliquote della Tasi. Innanzitutto come sono state scelte queste aliquote? Qual è stata un po' la metodologia dell'amministrazione per dare questi numeri poi che dovranno essere applicati? Intanto buonasera a tutti. Quando si parla di una tassa che è soprattutto una tassa nuova che deve essere calata in una delibera che poi significa mettere le mani in tasca ai cittadini non è mai semplice perché comunque già oggi siamo tutti quanti oppressi da questa crisi e fare delle scelte non è facile. Intanto la legge prevedeva che l'aliquota massima poteva essere il 2,5 per 1000 maggiorata dello 0,8 se utilizzata per fare delle detrazioni, questo ci diceva la legge purché la somma del limu sulla seconda casa pagato e l'eventuale aliquota della Tasi non superasse l'aliquota massima prevista per l'imu che era il 10,6. Questo era un po' il meccanismo della nuova tassa. È un calco un po' struso, più tecnico che altro. Allora noi ci siamo un po' orientati nel nostro bilancio perché poi questa tassa va a coprire i servizi indivisibili che ogni amministrazione sceglie quali mettere nella delibera. Noi abbiamo messo una serie di servizi indivisibili che poi sono quelli di cui tutti i cittadini soffruiscono come l'anagrafe, la polizia locale, il verde e l'illuminazione pubblica. Questi sono un po' i servizi e quindi si è quantificata la somma che dovevamo coprire con questa Tasi. Il regolamento che è stato redatto dalla Commissione, devo dire, con la collaborazione anche delle opposizioni, questo va dato atto noi come maggioranza. Io quando ho fatto l'intervento ne abbiamo dato atto della collaborazione che hanno dato. Poi è chiaro che l'ultimo intervento fatto che il Consiglio si è potuto fare solo grazie alla loro presenza per quanto riguarda Orte e Città Nuova, abbiamo dimostrato che con i numeri qualche conto bisogna farlo, cioè il regolamento la maggioranza poteva farlo a prescindere. È chiaro che fatto in collaborazione con la minoranza e con le opposizioni è una cosa diversa perché è condivisa. Ma dire che l'essere fatto soltanto per la loro presenza è un errore… Abbiamo questa parentesi polemica insomma. No, è un chiarimento rispetto a quello che ci è stato detto, invece veniamo al sodo che è veramente quello che poi interessa ai cittadini. Noi non abbiamo fatto la scelta che hanno fatto altri comuni di mettere il massimo perché ci rendiamo conto che le famiglie sono già in difficoltà. Non abbiamo usato lo 0,8 di maggiorazione ma abbiamo fatto lo stesso le detrazioni anche se solo per i figli e non le abbiamo utilizzate altre perché altrimenti sarebbe venuto meno lo scopo della tasi. Quindi le detrazioni totali avrebbero azzerato quasi il gettito della tassa che poi serve a coprire questi servizi. Altri comuni di vocazione turistica hanno fatto la scelta di azzerarla quasi o di mettere il minimo sulla prima casa. Perché? Perché le seconde case non sono dei cittadini residenti ma sono dei cittadini residenti in altri comuni. E quindi è facile prelevare dai non propri elettori. E noi invece abbiamo cercato di fare una scelta ponderata pur sapendo che è una scelta abbastanza dura. Ecco da qui è nato il 2,30 per mille. Esatto, 2,30 per mille sulla prima casa. Mentre invece sulla seconda, perché la prima casa non paga l'Imu, come sappiamo è già esente dall'Imu. La seconda casa che è già gravata dall'Imu, abbiamo introdotto una liquida più bassa che è l'1,5 per non sovbarcare ancora di più chi è proprietario della seconda casa. Magari solo perché l'ha ereditata o perché ha fatto un investimento per i propri figli. Certo, ancora due domande sulla tasi. C'è stato qui in comune confinante con noi, Bassanente Prina, dove è stato risalto che la tasa è stata azzerata, abbiati loro, alla fine che possono farlo, ci si raggiungerà qui a orte questo risultato? In qualche modo? È auspicabile? Noi è chiaro che se possiamo lavorare per ridurla il più possibile nei prossimi anni, vedendo quello che succede nel bilancio, è chiaro che nessuno di noi vuole mettere in tasca gratuitamente le mani in tasca ai cittadini. Bassano ci riesce perché ha fatto dell'autovelox a quello che ci risulta una buona fonte di introiti per la propria amministrazione, ma da anni ormai e quindi nel loro bilancio il comune essendo molto più piccolo, non essendo come il nostro, è come se fosse, è meno di un quartiere di orte perché sono circa 1300 abitanti, noi calcoliamo che solo orte Scalo da solo fa oltre 3000 abitanti. Quindi con l'autovelox riescono a sopperire a queste cose ovviamente. Altra domanda sempre sulla tasi, c'è stato anche un comunicato stampa che abbiamo dato la scorsa settimana di Aria Nuova in cui c'è la polemica, anche l'accusa dice che si paga troppo, le fasce più deboli pagano troppo di tasi. Si fa un errore di fondo, la tasi calcolata col vecchio sistema dell'Imu è chiaro che porta delle distruzioni, ma l'Imu è un altro tipo di tassa, c'erano i 200 Euro di detrazione che non sono stati inseriti, altrimenti avremmo aumentato dello 0,8, messe le detrazioni e avremmo abbassato tutti, però poi quantificare quanto dava in gettito la tasi con queste operazioni diventava complicato. È una tassa di servizi che usufruiscono tutti e quindi non è proprio corretto quello che viene detto, perché comunque è una cosa nuova, non bisogna fare il paragone con l'Imu. Sicuramente poi questa è l'opinione di Arena, poi sentiremo nelle prossime settimane le loro ragioni. Parliamo adesso, chiuderemo un po' questo argomento della tasi, perché ci sono anche altre questioni abbastanza urgenti. Sulla tasi se mi consenti, io volevo riprendere un attimo il discorso della obiezione fatta da Orte Città Nuova, sul discorso di chi è adotta un cane, l'abbattimento, c'è stata tutta quella polemica nel Consiglio Comunale. Cioè presentare, quello che abbiamo cercato di spiegare, presentare un emendamento sul regolamento, quando sul regolamento non avevamo messo le detrazioni per i figli, avevamo messo le detrazioni per prima casa. Il fatto di voler introdurre una detrazione per chi è adotta un cane, noi non abbiamo detto che siamo contrari. Bisogna scrivere un regolamento insieme o da soli, bisogna scriverlo e valutarlo per il prossimo anno, se introdurlo come introdurlo a fare una valutazione reale dei costi. Non si può dire che un cane costa X euro al giorno mettendo dentro i costi fissi di gestione del canile. Quando noi sappiamo che aver fatto un canile comunale, ancorché ci costa dei soldi per la collettività, ma quando noi per legge dovevamo farli ospitare da canili privati, gestiti anche da persone che gravitano nel Consiglio Comunale, noi ci costavano il triplo, quindi abbiamo già ridotto quelle spese. Allora, mistificare la realtà per dire che noi non vogliamo dare detrazioni a chi adotta un cane o a chi fa altre cose, ci sembra una forzatura che non ha senso. Se fosse stato introdotto quell'emendamento sulla delibera che stabiliva le aliquote, probabilmente l'avremmo discussa. Invece si è capito che era una cosa strumentale perché o si introduceva nel regolamento o nella seconda parte non abbiamo neanche risposto. Anche qui risponderà a Orto Città Nuova quando saranno nei nostri studi e quindi avranno anche il loro modo di esprimere le loro ragioni. Velocemente perché il tempo corre, abbiamo 15 minuti, ne abbiamo consumati già 9. Quindi io volevo parlare di una scadenza importante, quello del 22 settembre quando scadono le domande per avere i rimborsi della Regione Lazio, che sappiamo, abbiamo già detto precedentemente nel nostro DigiMagazine, è ora la Regione che gestisce i rimborsi per gli agiovinati, non più la provincia. È stata poi anche una polemica di Miroi su questo, ma a parte questo, due parole su questo concetto. Sì, due parole. Allora, una precisazione che è di questi giorni, sembra che il soggetto attuatore sia tornato alla provincia perché la Regione Lazio ha fatto, pochi giorni fa, pubblicato sul Burle, il trasferimento di fondi 2 milioni e 600 mila Euro alla provincia di Viterbo che poi una volta che saranno stilate le graduatorie degli aventi titolo divisi tra imprese e privati verranno erogati ai comuni che erogheranno in base all'approvazione delle graduatorie dell'entattuatore. La data del 22 per ora è perentoria perché noi, con un invito fatto all'unanimità nel Consiglio Comunale del 2, abbiamo scritto una lettera per chiedere una proroga alla provincia e alla Regione dei termini. Ad oggi non abbiamo avuto risposta e quindi il termine del 22 rimane un termine perentorio oltre il quale le domande sarebbero nulle. Quindi tutti i cittadini interessati devono sapere, l'abbiamo pubblicato anche sul sito, che il 22 settembre è l'ultimo giorno utile per presentare le domande per chi pensa di avere questo diritto. Sabato scorso abbiamo detto anche che è stato di uso fisioterapia. C'è stato proprio in questi giorni un'iniziativa congiunta con il sindaco di Vasanello e il sindaco di Bassano verso la AUSL per cercare di riattivare questo servizio, visto che il bacino di utenza è veramente enorme. Che cosa si può fare? Noi già avevamo iniziato circa 20 giorni fa perché questa è stata come al solito una delle solite iniziative estive dove la AUSL ha fatto una lettera all'unica dipendente che fa fisioterapia ambulatoriale qui a Orte che dal 15 settembre avrebbe dovuto prendere servizio provvisoriamente per carenza di personale a Viterbo per fare la terapia domiciliare. Come noi abbiamo saputo questa notizia, l'assessore Corradi è intervenuto immediatamente presso la AUSL ma ormai erano tutti in ferie chiedendo un incontro. Questo incontro, questa lettera è stata disattesa, non ha avuto nessuna risposta. Ci siamo consultati con i due sindaci con cui stiamo convenzionando diversi servizi e abbiamo mandato una lettera sia al prefetto che alla ASL, sia al direttore che alla dottoressa Proietti che è quella poi che ha firmato il provvedimento. Stiamo cercando, abbiamo fatto capire che ci sono circa 25 mila utenze che rimarrebbero in disagio notevole perché nei dintorni non c'è un'altra struttura se non quella di Viterbo, si allungherebbero le code per fare fisioterapia. È un servizio di vitale importanza non soltanto per Orte ma come abbiamo detto prima per tutto il bacino. Noi auspichiamo che questo incontro avvenga in tempi brevi perché comunque vigileremo e cercheremo di farlo riattivare quanto prima. Insomma non siamo stati fermi, abbiamo mobilitato un po' tutti. Adesso comunque attenderemo gli sviluppi su questa vicenda perché è l'iniziativa congiunta quindi si spera almeno il risultato di presto riattivazione del servizio. Un'altra domanda riguarda un po' l'attività in generale. Ormai quando era giugno, maggio-giugno sono state le elezioni, l'estate poi ovviamente sempre i tempi sono un po' più rallentati, ora da settembre si inizia nuovamente a camminare e si deve camminare veloce perché di cose in sospeso ce ne sono tante e i cittadini aspettano delle risposte. Quali sono le priorità e come si intende intervenire? Allora intanto la priorità... Dimene tre soltanto. Io dico quello che abbiamo fatto finora, oltre alla convenzione con il trasporto pubblico locale abbiamo fatto la convenzione per il segretario generale sempre con Basanello, stiamo preparando la convenzione per la polizia locale per avere finalmente un comandante e avere un'organizzazione con una pattuglia H24. Perché francamente Orte con quattro agenti è veramente... Con tre, ormai. Con tre agenti, voglio dire, quindi non si può chiedere l'impossibile a queste persone. No, anzi, devo dire che soprattutto in questo periodo dell'ottava medievale che è durata quest'anno 14 giorni, hanno fatto anche l'impossibile. Io devo ringraziare sia loro che le forze dell'ordine, i carabinieri locali che ci hanno dato una mano, pattugliando fino a tarda ora. Però ovviamente questo non è sufficiente. Abbiamo fatto le due assunzioni, stiamo aspettando che le immobilità di vigili, stiamo aspettando che le rispettive amministrazioni ce li liberino. Quindi contiamo che tra il 1 ottobre e il 15 ottobre vengano assunti presso il nostro comune. Abbiamo nominato dal 15 il nuovo responsabile del settore urbanistico, la commissione dopo aver selezionato 14 curriculum, quindi 14 candidati. Dal 15 abbiamo nuovamente, piano piano la macchina amministrativa si è rimessa in moto. Adesso e da lunedì probabilmente, anzi diciamo quasi sicuramente, partirà il nuovo sito che avevamo annunciato quindi in linea con la legge sulla trasparenza. In questi due giorni stanno facendo la traslazione di tutte le documentazioni da quello vecchio a quello nuovo e da lunedì avremo già un sito nuovo su cui implementeremo tutti i servizi e adesso la prima urgenza è quella di fare il bilancio preventivo, perché lavorando in dodicesimi rimane difficile fare qualunque cosa, anche una piccola spesa diventa una cosa insormontabile perché quando si lavora in dodicesimi non ci sono le disponibilità economiche e quindi oggi noi l'impegno che stiamo mettendo è quello sul bilancio, per poi dare le risposte sulle cose che abbiamo preparato, che stiamo preparando, tipo un discorso della viabilità, la segnaletica, cioè tutta una serie di cose che la gente ci chiede tutti i giorni, ma fino a che non riusciamo a fare il bilancio non siamo in grado di dire entro che tempi partiremo. Abbiamo l'emergenza della strada di Corso Garibaldi a Ortescalo che è diventata una cosa impraticabile, stiamo in contatto continuo con la provincia che ci dicono che forse entro 15-20 giorni dovrebbero partire, nel frattempo cercheremo di trovare soluzioni di tampone per la pericolosità di quelle buche che si trovano lì davanti, queste sono le cose che abbiamo in cantiere nell'immediato, ma la cosa più urgente è quella del bilancio. Bene, poi ovviamente nelle prossime settimane nostra intenzione è un po' fare anche un giro sulle opere che erano state avviate e sono in corso d'opera, anche per vedere lo stato di queste opere perché c'è il parcheggio, la strada per Molagnano, ci sono diverse cose quindi informeremo un po' i cittadini sullo stato dell'arte perché sono servizi quelli che sono stati avviati. Siamo andati avanti con il progetto della pensilità dei pullman. Bene, grazie a Mariano Polo di essere stato qui con noi, ovviamente gli alimenti più importanti che ci premiamo erano quelli sulla Tasi perché è una cosa nuova, una tassa nuova quindi tutti i cittadini magari avranno un po' o perlomeno si saranno fatti un'idea su quanto dovranno poi pagare perché è una tassa nazionale che verrà pagata da tutti e quindi il Comune di Orte ha deciso di fare queste scelte e sono state spiegate da Moreno Polo, il sindaco di Orte. Grazie per l'ascolto e la linea torna al nostro Digi Magazine. Domenica 21 settembre ad Orte si celebra la giornata di Ocesana del Malato con un ricco programma di eventi. Parteciperanno a questa giornata tutti i volontari Unitalsi e tutte le associazioni che si dedicano all'assistenza, quanti lavorano nel settore sanitario e coloro che hanno difficoltà di salute. È un evento di particolare sensibilizzazione che coinvolgerà tutte le realtà diocesane che si ritroveranno assieme ai malati. È in collegamento telefonico con noi il Presidente delle Organizzazioni Territoriali dell'Unitalsi, Giuseppe Bottacchiari, al quale chiediamo qual è principalmente lo scopo di queste giornate. signor Bottacchiari. Sì, eccoci qua. Bene, lo scopo di questa giornata è di unire le persone, di incontrarci per passare una giornata insieme in gioia, felicità e quindi trascorrere queste giornate serene. anche perché durante l'anno ci sono tante altre attività come i vari pellegrinaggi e quindi ecco dopo il pellegrinaggio o prima del pellegrinaggio incontrarci per poi scambiare di nuovo delle opinioni, delle sensazioni, qualcosa che ci tiene sempre vicini. Sì, i malati che sono nel nostro territorio sono sufficientemente assistiti dalle associazioni di volontariato? Beh, qui sì, non più di tanto bisogna dire, non bisogna dire non più di tanto. Purtroppo, tutti quanti abbiamo una famiglia, il nostro volontariato, sì, cerchiamo di essere presenti sul territorio, di stare vicino ai nostri amici in difficoltà, però poi nascono tante altre problematiche. Comunque cerchiamo di essere vicini il più possibile, aiutandoli o incontrandoli quelli che si trovano nei vari centri, nei vari istituti oppure quelli che si trovano nelle famiglie, quindi magari a volte si trovano in difficoltà, aiutiamo a accompagnarli nel fare delle visite, accompagniamo, andiamo a prendere le medicine, insomma cerchiamo di essere, naturalmente sempre, ripeto, compatibilmente anche con gli impegni lavoro, famiglia e quant'altro, insomma. Comunque la nostra disponibilità c'è sempre. Bene. Senta, l'Unitalsi vive di volontariato, ci sono iniziative specifiche per avvicinare persone nuove? Le avvicinate ce ne sono talmente tante, ce ne sono talmente tante e sono occasioni molto, molto, molto interessanti. Basta ricordare che lo scorso anno c'è stata una grandissima, una bella iniziativa quella di andare in visita in Vaticano, visitare i giardini, i musei vaticani e poi il giardino vaticano. Oppure, che so, ecco, siamo stati a San Vittorino, un altro, a Madonna del Divino Amore, ogni tanto facciamo incontri di questo genere, dove, oppure, ecco, siamo stati nel, in questi centri acquatici, dove c'è possibilità di far divertire, divertire le persone, ripeto, che magari non lo potrebbero mai fare e saranno in difficoltà. Purtroppo anche qui, più delle volte, i nostri amici non sono aiutati, non solo da noi, noi ci proviamo a far riuscire magari dalle loro abitazioni, dalle loro case, però a volte troviamo anche un pochino di resistenza da parte dei propri familiari. Bene, signor Bortacchiari, siamo in chiusura, vuole aggiungere qualcosa? Beh, io ho qualcosa, visto che ci apprestiamo ad effettuare un pellegrinaggio, sta partendo un treno a fine mese per Lourdes e poi successivamente ce ne sarà ancora un altro, quello di fine ottobre, diciamo fino a ottobre 21-27 ottobre a Lourdes, ecco, vorrei sollecitare le persone che magari vogliono fare questa esperienza del treno bianco, andare a Lourdes, andare presso la Grotta della Madonna, quindi ecco, ricordarsi che comunque l'Unitalsi per poterci eventualmente contattare abbiamo un nostro sito che è quello unitalsi.it e lì ci sono tutte le indicazioni con tutte le iniziative a partire dal treno bianco, quello per Lourdes, come pure quello molto, ma molto, molto importante. Anche qui eccoci da fare una piccola appunto, a giugno viene fatto un pellegrinaggio a Loreto solo per bambini, solo per bambini e anche qui troviamo resistenza da parte di molte mamme nel portare i loro piccoli, fargli passare 3-4 giorni in gioia insieme con i nostri accompagnatori. Ecco, mamme, mamme, signori, genitori, fratelli, sorelle, date la possibilità ai nostri amici in difficoltà a partecipare a questi pellegrinaggi. Riempie il tutto, ci riempie di gioia anche a noi. Cambiamo decisamente argomento. È continua e senza soste l'attività dei carabinieri di Orte contro lo spaccio di droghe. In questi ultimi giorni si registra infatti un altro arresto. A finire in manette un cittadino romeno sorpreso mentre cedeva una dose di marijuana a un ragazzo di Orte poco più che maggiorenne. L'uomo è stato trovato in possesso di altre 50 dosi della stessa sostanza già divise e pronte per essere cedute ad altri clienti. Il giovane di Orte è stato invece segnalato dai carabinieri all'ufficio territoriale del governo come assuntore e sempre i carabinieri di Orte, durante un normale controllo alla circolazione stradale, hanno denunciato due ragazzi di Montefiascone per detenzione al fine di spaccio di cocaina. Parliamo ora di sport. La prossima settimana prende in via il campionato di serie A2 di calcio A5. Conosciamo la nuova squadra in questo servizio. Siamo con il presidente Brugnoletti per presentare la squadra della Caci Norte che quest'anno effettuerà il suo secondo campionato di serie A2 dopo un anno ricchissimo di soddisfazioni. Quali sono le prospettive per questa stagione? Le prospettive sono buone perché abbiamo allestito una nuova squadra con 3-4 innesti. Aspettiamo ancora, il mercato finisce tra qualche giorno. Probabilmente faremo anche un tentativo di un ulteriore giocatore. Abbiamo fatto venire il Ramiro, allenatore dalla Spagna, da Almeria. Ha portato con sé 8-9 bravissimi ragazzi spagnoli che giocheranno in Under 21 e Under 18. Quindi io credo che quest'anno sia la prima squadra, ma soprattutto perché ci teniamo tantissimo Under 21 e Under 18 daremo davvero grandi soddisfazioni al nostro popolo. Ma io prima di concludere vorrei dire che tutto questo non sarebbe possibile se non ci fossero delle persone eccezionali che da sempre danno tantissimo a questa disciplina, a questo sport. Parlo di Luciano Onesta, di Federico Sabatini, Alessandro Valente, Mauro Massimi, poi qui sotto vedo Enrico Paris. Senza loro questo non accadrebbe, non sarebbe mai accaduto. Quindi tutto Orte, io credo che non a me, non a Ramiro, non a giocatori dovrebbe essere grato a queste persone. Ora e per tutta la stagione. Ecco, quest'anno si cambia a Girone, lo scorso anno nel Girone Centro-Sud e quest'anno nel Girone Centro-Nord. Che cambia? Beh, cambia per noi, come dire, innanzitutto andiamo a giocare in piazze più belle, più importanti e più interessanti da Milano a Lecco, a Asti, a Osta, Forlì, Pesaro, Vicenza, Treviso. Sono tutte piazze che ovviamente evocano in noi delle aspettative importanti. Ma anche i nostri sponsor, per dire la Cascina, ma anche altri, perché io ho sempre ricordato che Piumetto è responsabile della filiale Nord. Noi abbiamo già in animo, quando andiamo a Milano, di fare una festa con i dipendenti della Cascina a Milano, di fare magari delle iniziative per gli sponsor. Cioè, il Girone Nord ci dà delle opportunità che il Girone Sud non ci dava. E quindi, come dire, Orte sta nel parterre delle città più importanti d'Italia. La squadra è allestita, tutti puntano e tutti dicono che bisogna vincere il campionato, un po' quello che ci aspettiamo tutti quanti qui a Orte. Per vincere bisogna essere tutti uniti, non solo noi dirigenti, non solo la squadra, non solo i tecnici, non solo i giocatori. Io faccio un esempio che mi ha colpito moltissimo, perché questi ragazzi, avete visto, vengono da paesi molto lontani, alcuni, il Brasile, molti ragazzi spagnoli che sono giovanissimi, hanno l'età di mio figlio, immaginarlo che sia Spagna per otto mesi mi piangerebbe il cuore. Ecco, noi abbiamo questi due ragazzi che sono venuti da italiani, da Pesaro e da Cagliari, perché appunto Orte è diventato un punto di riferimento, e c'è Ramiro che è un grande allenatore. Stanno a casa da soli e c'è Tentenne, e lo dico chiaramente, Gergo, che tutte le sere farà la cena a loro. Cioè, se Orte ciascuno di noi facesse un piccolo di quel che fa per questa squadra potremmo davvero dare ad Orte delle grandissime soddisfazioni. Ho fatto questo esempio perché è uno dei tanti che sono quelli che fanno la differenza. Avere tre ragazzi, 17-18 anni, che stanno a casa da soli, ma sapere che c'è qualcuno che prepara la cena a loro, è una, come dire, per noi è quel passo avanti che fa di una... È una preoccupazione in meno. Non solo, che fa di un paese una comunità, è una comunità che deve voler bene all'eccellenza che ha, perché questa è un'eccellenza. Grazie al Presidente. Appuntamento allora il 27 settembre per la prima partita in casa qui a Orte. Purtroppo non a Orte. È fuori casa, ho sbagliato io. No, no, la prima sarà a Orte, ma Orte purtroppo è occupato per una manifestazione di arcieri e quindi la prima partita la giocheremo a Terni, al di Vittorio. Spero che tutti i nostri amici e sostenitori ortani vengano in massa al di Vittorio a Terni il 27 aprile alle 17. 27 settembre alle 17. Sono tante le iniziative che da oggi e per tutta la giornata di domenica 21 settembre sono state organizzate per dire no al progetto della nuova autostrada Orte Mestre. Un progetto lungo 400 chilometri che tocca 5 regioni e che prevede la trasformazione a petaggio della E45 oltre alla realizzazione di una nuova autostrada, la Romea, definita devastante da Lega Ambiente. Attraverso una nota diffusa, Lega Ambiente dice la nuova autostrada attraverserà aree delicate come il Parco del Delta del Po, le Valle di Comacchio e del Mezzano. La sua realizzazione, prosegue, costerebbe oltre 10 miliardi di euro di cui almeno 4 miliardi dovranno essere garantiti dallo Stato. Eppure un'alternativa più economica e sostenibile esiste ed è quella di mettere finalmente in sicurezza la superstrada E45 e la strada statale Romea, deviando il traffico pesante sulla A13, potenziando il trasporto ferroviario attraverso l'Appennino e il collegamento con i porti dell'Adriatico. La manifestazione è stata indetta perché con il decreto Sblocca Italia si dà un'accelerazione al progetto e permette una defiscalizzazione da 2 miliardi di euro per l'opera. Quel provvedimento è un'autentica sciagura, dicono gli ambientalisti. Basti dire che oltre il 47% delle risorse infrastrutturali dell'Italia va a strade e autostrade e solo l'8% viene destinato alle aree urbane, dove si concentrano i veri problemi di congestione e larga parte della domanda di mobilità del Paese. Ci battiamo contro quest'opera, conclude la nota, perché è una scelta di civiltà e perché porterà vantaggi solo per coloro che gestiranno i cantieri e le risorse pubbliche. Teleorte, visto il proliferare di nuove associazioni e movimenti di ogni genere, chiede a tutti di farsi conoscere in modo semplice e chiaro. A tal proposito vi riproponiamo il servizio mandato in onda la scorsa settimana. In questi ultimi mesi abbiamo assistito ad un proliferare di associazioni e movimenti che senza ombra di dubbio hanno arricchito la realtà cittadina. È sempre un bene l'aggregazione di persone che portano impegno e voglia di fare e per dar modo a tutti di poter esprimere attraverso comunicati stampa o interviste la loro attività, Teleorte chiede semplici informazioni. Una testata giornalistica non è Facebook dove tutti possono scrivere di tutto. Teleorte, quando dà notizia di un comunicato stampa, deve essere certa che chi scrive sia regolarmente censito. Sarebbe anche buona creanza, quando si costituisce una nuova realtà associativa, inviare agli organi di stampa una lettera di presentazione, comunicando la natura, dove si è fatta l'iscrizione, i responsabili ed i contatti. Per questo, soprattutto a coloro che hanno dato vita ad associazioni o movimenti in questi ultimi tempi, chiediamo di inviarci quanto detto. Insomma, qualcosa che certifichi che l'associazione o il movimento siano riconducibili ad un rappresentante legale regolarmente iscritto o nell'elenco delle associazioni comunali, oppure alla Camera di Commercio, al Tribunale o in qualsiasi altra istituzione pubblica. Coloro che non hanno tali requisiti non possono pubblicizzare la loro attività a Teleorte. La decisione della dirigenza arriva proprio per evitare che chiunque, anche in modo abusivo, emetta un qualsiasi comunicato e censuri sui social network il comportamento di Teleorte. Siamo sempre convinti che tutti debbano avere il loro spazio per poter esprimere idee e portare contributi. Ma questo spazio Teleorte intende concederlo solo a chi è riconoscibile. Questa decisione è stata presa a difesa del telespettatore, affinché ogni dichiarazione sia chiaramente riconducibile a chi la divulga. E proprio per dare una comunicazione esatta, la proprietà ha deciso che i comunicati stampa dal prossimo 1 ottobre, per essere pubblicizzati, dovranno avere le seguenti caratteristiche. Tutti i soggetti interessati alla lettura dei comunicati stampa, comprese le forze politiche, debbono inviare entro il 30 settembre a Teleorte gli indirizzi mail che Teleorte riconoscerà come ufficiali. Questo per evitare, come già accaduto in passato, che siano inviate mail da soggetti terzi non riconosciuti poi dall'associazione o dalla forza politica. La firma del redattore del comunicato, la lunghezza del comunicato con massimo 1.500 caratteri, e i comunicati stampa che dovranno essere inviati tramite il sito teleorte.it cliccando nell'apposita icona. La mail fino ad ora utilizzata, vale a dire comunicati stampa chiocciolaterradiorte.it, sarà disattivata dal prossimo 1 ottobre. Non saranno pubblicati i comunicati stampa consegnati a mano o inviati per posta. Teleorte rimane a disposizione di tutte le associazioni per chiarire quanto detto. Ricordiamo infine ancora una volta che le associazioni o di movimenti sorti ultimamente debbono inviare a teleorte una dichiarazione di costituzione legale ed il nome del rappresentante per aver diffusione delle loro iniziative. Prima dei saluti finali vi ricordo alcuni appuntamenti. Sabato 20 settembre, dopo il TG Magazine delle ore 19.15 e delle ore 21, il giuramento del Podestà e i piccoli sbandieratori. Domenica 21 settembre, dopo il TG Magazine delle ore 12.15, il bando, i piccoli sbandieratori, corteo storico, paglio degli arcieri. Ed è tutto per questo numero del TG Magazine. Grazie per l'ascolto e arrivederci alla prossima settimana. Grazie per la visione!